Eccoci e bentornati sul mio canale Halo 5 Guardians arriva su Xbox One Mamma mia ragazzi sa per iniziare una serie incredibile Halo 5 sul mio canale Mamma mia che bello campagna single player o cooperativa andiamo subito Difficoltà mettiamo facile così giochiamo bene e partiamo con la prima missione di Halo 5 Base Spartan La squadra d'assalto Osiris è stata inviata a recuperare il criminale più ricercato dall'UNSC Il dottor Catherine Elizabeth Alsey Teschi trovati 0, informazioni sulla missione 0 di 7 Schieramento fra 2, 1, andiamo Grazie a tutti Spartan Locke Sono stata abbastanza nell'ONI da sapere la verità Quando sarà finita? Dopo tutto quello che ho fatto Ti ordineranno Deo cederci entrambi Grazie a tutti Squadra Osiris Nelle ultime 72 ore su 5 colonie si sono verificati gli stessi eventi Distruzioni di massa causate dai precursori Il dottor Catherine Elizabeth Alsey ci ha contattato Sostiene di avere informazioni sugli attacchi Ora Alsey è in mano ai Covenant su Kamchatka La missione è infiltrarvi dietro le linee enemiche, recuperarla e riportarla sull'Infinity E ricordate che Alsey è con il leader supremo dei Covenant Comandante Julem Dama Se aveste l'opportunità Sì comandante Buona fortuna Locke Passo e chiudo Strumenti attivi? Affermativo Allora, prima del salto qualcuno vuole dire qualche parola Se Dio può sentire quanto ho paura Allora possono sentirlo anche gli altri Locke, quando torniamo offri tu Tu chiedi e tu paghi Bene, squadra Osiris Semaforo verde Comunicazioni Tanaka online Ok, Tanaka Fatan back online Sail online Fuoco a volontà Contatto Nostra Qualc Lau 犯ere Psico Scopo Peure Beh Con Ah Caps Caps Qu Leist Ins thick Mamma mia ragazzi ma è epico, è epico Oh mamma mia che spettacolo sinistra Colpo Locke Entama e Alzi sono in una struttura dei precursori Quello è il nostro obiettivo Quindi ci ha chiamati Alzi? Sosteneva che stesse succedendo qualcosa di grosso Ha dato al capitano Lasky le sue coordinate Deve essere importante Contatto Mamma mia Mamma mia Abbiamo anche la pistolina Cacchio Ah ho finito Manca misera ho finito le munition Bello questo Questo ci piace Oh oh Ragazzi stiamo attenti Eh lo so fucile al plasma Vai vai Attenti raga No Scane Ovviamente ragazzi oltre al wall true Arriveranno tantissimi video del multiplayer Cacchio Cacchio Aiuti le munizioni senza Andiamo Ok c'è stato Va per saltare FU Soldati precursori Lassù Inseguiteli Siamo Premier di nuova per appigliarti Ok Qualcunissimi precursori come vanno Qua che c'è Pistola scarica Ok andiamo Premier di nuova per appigliarti Per effettuare una carica Spartan Bene Qua si passa Premier di nuova per appigliarti Premier di nuova per appigliarti Scatter Oh Bella sta cosa Arma Aspetta che prendo il fucile a scarica Mamma mia si presuppone qualcosa di epico ragazzi Prometeici ovunque Affrontarli difetto sarebbe rischioso Potremmo considerare un accerchiamento Scusate lo stesso Fuoco miraggio Mamma mia Mamma mia Fucile impulsi Andiamo Ma guarda che armi epiche Troppo distante Aia 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 Aiuto Di questa assistenza Su Su Dai aiutami Benissimo Benissimo Grazie Grazie E ci vediamo con tanti nuovi video Sempre qui e sempre sul mio canale In Grazie